Torniamo in studio e parliamo di calcio, ampia pagina sportiva come tutti i sabati. Parliamo di calcio, è arrivato il grande giorno per il Civitavecchia Calcio che domani alle 11 al Fattori ospiterà il Fregene per la prima giornata di eccellenza, arrivata dopo la retrocessione dello scorso anno dalla Serie D. Già il fatto di giocare e di farlo al Fattori a porte aperte è una grande notizia, vista la calda estate e i soliti problemi all'impiantistica che scrivono le sorti dello stadio comunale. I nerazzurri che partono da un pesantissimo meno 6 in classifica sono subito chiamati a fare punti per cercare di mettersi al paro delle altre squadre che lotteranno per mantenere la categoria. Il mister della formazione Castagnari ci introduce all'incontro. Le prime giornate dei campionati sono sempre per tutti un salto nel buio, ci sarà sicuramente tanta curiosità e tante aspettative. Noi ovviamente abbiamo i nostri problemi ma anche gli altri non credo che saranno al top. Sempre parlando di calcio andiamo al campionato sempre di eccellenza, giocheranno infatti domani anche altre due squadre del comprensorio, ossia il Cerveteri che ospita il Galli con inizio previsto per le 11, il Montecelio imbottito di ex giocatori del Civitavecchia, mentre la Dispoli sarà impegnato fuori casa contro il Villanova. Andiamo invece a vedere la promozione, nutrito anche quest'anno infatti il gruppo delle squadre del comprensorio che militerà in questo campionato. Sentiamo il servizio. Tante le gare in programma per questa prima giornata di campionato promozione. Alle 11 scenderà in campo la compagnia portuale Civitavecchia che sarà di scena a Fiumicino. I biancorossi giocheranno contro il forte Focene con pagine battuta e dominata durante il campionato passato sia all'andata che al ritorno. Il Tolfa dovrà invece attendere le 15.30 per scendere in campo contro il Morandi in una gara che vedrà i collinari impegnati a far dimenticare la retrocessione dello scorso anno. Partita complicata anche per il Corneto che ospita l'Atletico Vescovio alle 11.00. Grato al tramonto di una stagione che ha fruttato un bronzo al collo, il Santa Severa di patron Stefano Marchio saggia la promozione, deputando con Ardea Aldelio Chimenti, avversario il sedia al Lido dei Pini, sempre alle 11.00. Chiude il Santa Marinella che ospita il Falaschi alle 15.30. E dal calcio passiamo al calcio a 5.00. Un pari e una sconfitta infatti per le formazioni locali. Partiamo dall'SD che ha pareggiato 1-1 al palazzetto contro il Palestrina grazie alla rete di Notarnicola mentre l'Atletico ha ceduto 4-1 fuori casa contro il Ciampino. Grande festa per la chiusura del progetto Traversata per una stella ed è realizzata dall'associazione di Santa Marinella Stella Polare e Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella, ossia portare un pattino da Olbi a Santa Marinella con un equipaggio misto di atleti normodotati e diversamente abili. Nella splendida cornice dell'Hotel Le Palme di Santa Marinella i protagonisti della Traversata, gli sponsor e tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione hanno tirato le somme del progetto. Abbiamo raccolto oltre 8 mila euro che serviranno per la realizzazione di una struttura per le attività dei ragazzi diversamente abili all'interno del parco Martiri delle Foglie, spiega Maurizio Poleggi della Stella Polare. Ne serviranno molti di più ma grazie a quella somma potremo sicuramente fare tanto. Una volta realizzata la struttura, si parla di una vera e propria casa dove i ragazzi potranno fare attività durante tutto l'anno, una delle stanze la chiameremo Traversata per una stella. Da venerdì all'anno è di scena il campionato italiano Classi Olimpiche di Windsurf che terminerà il 19 settembre e che vedrà impegnate tutte le classi che parteciperanno alle Olimpiadi e alle Pare Olimpiadi del 2016. A questa competizione stanno partecipando gli atleti di Civitavecchia e in particolare Camboni è primo nella sua categoria. Bene, questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il TG Alto Lazio. L'appuntamento è a lunedì. Buonasera e buon weekend a tutti. Buonasera e buon weekend a tutti.